Nona e ultima corsa del pomeriggio, premio a Palaci, miglio per anziani di categoria C, ritirato Style by Lions e poco fa anche Palomarelle e B restano in otto al via. Cerca di emergere Tessa Obisonic impegnata all'esterno da Turbo Bye Bye all'interno in quota New Hop, Tessa Obisonic che scavalca New Hop e tiene a bada Turbo Bye Bye che non ha posizione. Poi c'è Rugito GSM davanti a Satanassofi che è partito bene dalla seconda fila a precedere Probo P, Terrific Pic in coda Tornado del Vento con Tessa Obisonic che cerca subito di graduare mentre si è adeguato all'esterno in quarta posizione Turbo Bye Bye che ha in scia Probo P. Ma ora Tessa Obisonic sta graduando a piacimento, si va molto ma molto piano, con Tessa Obisonic che controlla nei confronti di New Hop, Turbo Bye Bye che gradatamente ritorna in avanti, seguito sempre da Probo P al cui interno c'è Rugito GSM, poi ancora Satanassofica in fuori Tornado del Vento e in coda, Terrific Pic. Ora Probo P muove in terza ruota per aggirare Turbo Bye Bye perché Tessa Obisonic è andata pianissimo finora, metà gara addirittura sul piede dell'1.20 con cavalli di quasi prima categoria. Ma ora Tessa Obisonic appena vede Probo P parte con frazioni sul piede dell'1.10, il chilometro comunque avvia in 1.17.5 per Tessa Obisonic, la frazione molto veloce, ora ce n'è un'altra altrettanto veloce. Probo P all'esterno scoperto, scusate con all'interno New Hop, poi Turbo Bye Bye con all'interno Rugito GSM, Tessa Obisonic in evidenza all'ingresso in retta d'arrivo su Probo P che generosamente cerca di agganciarla, ma la prima metà gara tatticissima rende improbo il suo compito. Tessa Obisonic in vantaggio su New Hop, Probo P decisa che ci prova ancora genosamente ma più incisivo e Turbo Bye Bye stacca Tessa Obisonic nei confronti di New Hop con Turbo Bye Bye che batte Probo P per il terzo posto. Vittoria dunque per la favorita Tessa Obisonic, 1.82 al totalizzatore in una corsa caratterizzata da una prima metà gara nell'ordine dell'1.20 abbondante e una seconda metà gara invece sul piede dell'1.08 perché Tessa Obisonic ha fatto meno di 56 per il mezzo miglio finale e infatti ha staccato dall'appostato New Hop e poi da Turbo Bye Bye 5.27 l'arrivo ufficioso della nona e ultima corsa di Capanelle. È tutto per questo pomeriggio, l'appuntamento per venerdì prossimo 8 dicembre.